musica 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 lol il tizio contro mi è venuto in chat a scrivere il pathfinder me lo ricordo sono in solo questi tutti e tre musica è già immateriali sta venendo giù da voi no ho caricato il pathfinder vengo da voi no grazie grazie il path è proprio in fondo uno è nella stanza sono due nella stanza due nella stanza il path è in piedi sulle casse via non li vedo io da qua wow faccio faccio io proprio non li sto vedendo uno è qua in fondo un contatto con il nemico mi sparano amici dove c'è davanti il nostro al centro erano un phoenix si sono tutti nella stanzina a livelli diversi uno si allarga a sinistra cato davanti a te mox quello lì è craccato si 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 il path è qua sotto nell'angolino non lo posso cliccare c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno cato il blood mi sta allargando da sinistra l'ultimo uccitino è l'ultimo uccitino che ho staccato arriva da voi dovremo parla di pushare qualcuno Dentro la stanza Straccato 19 flash alla banga Bella Che fatica eh Provo ad andare per le cure Anche se non sono ben in situazione Dove attivare il grapple Dove sono Ovviamente Una a destra Tutti e tre a destra Tutti e tre a destra Oh 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 Eh dobbiamo beccare Dobbiamo beccare Forse non devo andare con la wing A prendere le cose Prendono il shieldino Mi c***o che fai a prendermi o no? Batteri Manga non ha capito Ok Ehhh Aspetta Guarda bene Manga Fai del vola Quanto ha sentito anch'io Te lo fai te lo fai Lo batta E' low anche il blooding Nooo la Manga mi si tratta batteri Un secondo Il blooding a sinistra E la Manga a destra Qui metti la Manga Ti sta pushando la Manga? E' qua davanti Ehhh troppo difficile Peccato Vai 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 Let's go Probabilmente il pat Probabilmente il pat va per le cure Se fa come l'altro round Stiamo andando dietro la stanzetta o dentro? Nella stanzetta o dentro? Dietro 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 Oh 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 Il pat Scaraccato il pat V25 flash Ma questo pronto? What? Ti sto rilando Temi tempo che prendo i metalli Perché sono tutto trombo Il bloody è ancora in ulti Ragazzi E' in ulti il bloody E' in ulti Si Porca miseria Sto rilando Sto rilando Sto rilando Sto rilando Sto rilando No ok ok Sorry sorry Non l'ho sentita Come si canta sta roba Che smokeano tutto E pushano Con l'ulti di bloody No ma io Diamo giocare af Diamo giocare animo Se c'è sta roba qua Ha tre turni da aspettare il bloody Per usarlo va bene Castrato nella porta Ah Immortali però Ma mi ha Mi ha fatto male la benga Allora è presso la smoke Non il Non il bloody Che alla fine Alla fine Voh Non lo so se ero scannato Vengo a destra Sul pathfinder Io vado sempre Ma non Non faccio Ti avanzano Robloci I materiali Capisci perché Dico Perché Tu sei grappling in E muori Il 50% delle volte Sì sì Infatti Devi È una cassa Che mi hanno mandato Per l'evento di pathfinder Per dire spawn Non penso che tu possa acquistarla Nascosto Cioè mi vedono da solo E sono morto Stanno Stanno Nidalla Blocco il pathfinder Ottio Stanno spawnando nage Ma Ma che cazzo choosing Straccato Covid Straccato il pathfinder 200 in fronte al glo di rivela l'ultimo adesso si sulla ringhiera no non uso nessun daltonismo ciao brescia l'ha rifatto hanno usato l'auto di blo di becco 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 stavo venendo back pure io forse la fermo la fermo la fredda c'è il part, guarda il part, guarda il part, guarda la su bella, vabbè, finsta dead no mi cessa sta arrivando sto nooo mi stavo curando raga sono andato iolo per mox ma non era da fare dai raga bastava aspettarmi miseriazza mi porto di nuovo a sinistra io sempre che non pullano di nuovo la combo della morte incanterabile sono a sinistra, sono a sinistra sono da solo qua vengo da te sharp, si sono già larghi ok ok non venire proprio da me uno è lì eh, uno è lì la bungalore hai crackato uno? da fermare il crackato pat, knock tiro nade, tiro nade avviciniamoci sono, non so bungalore wow mi ho buttato bungalore no? molti, molti loro entrambi sicuro entrambi i batteri bella qua hai il pad a destra eh ti vado a prendere le spure sulla destra io va bene, va bene dicevo di tenerlo ma come vuoi cosa? no dicevo di tenerlo il pad ma come vuole almeno usiamo questo round la mia non c'è nessuno, sono tutta a sinistra tutta a sinistra ultima parte è già vinto fire faccia le nade occhio occhio che non vorrei che ti hardpush il bloody ha ultà, tranquilli c'è la mia ultà si 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 si, hanno pushando maestro indietro il bloody è sotto, gli altri due il bloody è nella stanza ah vabbè 72 alla bunga non c'è nessuno non c'è nessuno sono dentro la stanza uno è a sinistra uno è l'overground bella bella avanzo io ecco là uno è qua occhio dietro la sua side sopra qua le pallombelle non lavorano bene la sua side è sceso uuh hanno l'alternator occhio il pad è l'alternator 126 brodon altri 54 lo fermo, lo fermo, li fermo la fura li fermo la fura, vai tu vai vai non posso, non posso faccio fatto 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 e curati mox e sfido sopra calma 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 per il carico aspettiamo mox faccio malissimo ti faccio malissimo vado vado aggro vado aggro dove c'è? con me? lockata? ok si sono dileguati spariti nel nulla guia facciata una uno talmente a destra e tu due tre tutti e tre da noi il blood è in ulti su oh ce la vangalo poi in mezzo vangalo poi in mezzo scappate via scappate via il blood è in ulti giusto per capire come cazzo l'ho usata prima l'ho usata prima vabbè io ne voglio capire come mi spara verso la block allora è attraverso va bene vangalo è peccatissima bravo me l'hai ucciso riuscite a venire a starmi e coprirmi? forse la fate forse la fate sono va bene mi ha staccato coprilo coprilo la vangalo uno sopra uno sotto uno push a sharp uno push a bottom si non so copri tommy eccomi eccomi ci sono vai avanti 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 vieni seguimi vieni vabbè push 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 vabbè push 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 ti ricopro ti ricopro ti ricopro ti ricopro ah peccato non pensavo fosse nell'angolino lì pensavo si fosse allontanato pensavo si fosse allontanato per il blood che era convinto fosse bang destra e uno in mezzo stavo dando la porta il patto è in mezzo no mi ha aprito la arcsark devo tirare le mie batterie eh uno sta flancando la sinistra uno sta flancando la sinistra il pat mi avvicina il pat ecco il di crackato crackatissimo niente lo spiego ah shit non c'era vivo lockato lockato banga lockato lockato anche lockata la banga manca l'ultimo 72 al blood ripollatevi ripollatevi non c'è fretta crackato bella gg raga non c'è non c'è non c'è l'ultimo